Musica Un consiglio regionale cominciato con le scintille, con l'oggi in corso a Palazzo dell'Emicico. Fuori cancelli le proteste e gli inquilini delle case popolari dell'Aquila hanno ancora ricostruite dei dipendenti della strada dei parchi contro l'automazione dei caselli autostradali. Dentro tanti sindaci con fascia tricolore dei comuni del Terramano e del Pescarese, esclusi clamorosamente dal cratere sismico del 2016. A dare battaglia sugli scranni l'opposizione di centrodestra e Movimento 5 Stelle. Forza Italia, con tanto di striscione sorrotolata in aula, minaccia di occupare l'emiciclo. Se a Roma il decreto sisma in via di approvazione alla Camera non sarà corretto il cratere ampliato, inserendo in primis anche comuni come Penna Sant'Andrea, Basciano, Penne, Catignano e Civitella Casanova, dove ribadiscono i primi cittadini il sisma inferto, danni non inferiori ad altri comuni inseriti nel cratere. Rabbia e incredulità, non riusciamo a comprendere come il mio comune, il comune di Basciano e il comune di Penna Sant'Andrea siano stati esclusi dal cratere sismico. Io a Basciano ho 180 inagibilità e 120 sfollati, una popolazione che è meno di 2.000 abitanti. Purtroppo il comune di Catignano è stato colpito dal sisma in maniera importante. Ad oggi abbiamo 51 sfollati, due aree del centro storico interdette, le chiese chiuse, le torri campanarie pericolanti, una è stata messa in sicurezza. Abbiamo fatto lavori di somme urgenza per oltre 350.000 euro nella messa in sicurezza dei palazzi e abbiamo oltre il 25% delle attività in centro storico chiuse che devono costrette a lasciare le proprie sedi. In aula anche sindaci di comuni non terremotati ma che hanno subito gravissimi danni dall'epocale nevicata di metà gennaio e ora si ritrovano con la viabilità devastata da frane e smottamenti. Siamo stati di fatto lasciati soli di fronte alle frane, di fronte alla neve. Tutti i piani che erano stati pensati a livello provinciale di fatto sono saltati e i comuni sono stati costretti ad affrontare con i propri mezzi e le proprie risorse delle situazioni emergenziali che non avevano riscontro in precedenza. Circa 25 milioni di contributi illecitamente richiesti e percepiti sono stati rilevati dalle indagini della Guardia di Finanza sulla ricostruzione. Con 1.753 accertamenti antimafia questo dato è uno dei più rilevanti fra le attività svolte dalla Guardia di Finanza nel 2016, come spiega il generale del comando regionale Flavio Aniello nella presentazione del bilancio annuale del corpo. Non posso assolutamente definirla come una regione ad alto rischio fiscale ma neanche una regione di virtuosismo civico in questo senso. Quindi è una regione mediana che soffre e gode di tutti i vantaggi e gli svantaggi dal punto di vista erariale e fiscale. Su delle attività sono stati operati 700 controlli sul territorio e smascherati 186 evasori totali, 535 lavoratori irregolari di cui 193 in nero. Nel contrasto al contrabbando è stata scoperta una vera e propria fabbrica illegale di tabacchi ad Avezzano e sequestrate più di 5 tonnellate e mezzo di tabacchi lavorati. Dal 1 gennaio inoltre rende noto il generale Aniello la Guardia di Finanza diviene unica Polizia del Mare. Dal 1 gennaio 2017 si è diventati Polizia del Mare. Come ha preso questa nuova iniziativa? Questa è un'importante novità della riforma Madia, ovvero la riforma che sta interessando tutta la pubblica amministrazione e nel suo ambito anche le forze di polizia. Era una decisione nelle corde che era già da prendere da parecchio tempo, ora con il nostro naviglio e con le nostre forze aeree che siamo in grado di dispiegare lungo la costa non cambia praticamente nulla perché il presidio era ed è assolutamente idoneo. Soltanto adesso diventiamo gli attori, i referenti unici di tutti i problemi dell'ordine della sicurezza pubblica in mare. Grazie a voi. Grazie a voi.